I locatari possono sublocare il proprio alloggio o singole stanze temporaneamente. Un esempio frequente di sublocazione è quello di una stanza in un appartamento condiviso. Visto l'aumento degli abusi, soprattutto in Internet, il Parlamento ha deciso di adeguare le norme sulla sublocazione. La modifica di legge stabilisce che in futuro il consenso scritto del locatore sarà necessario in tutti i casi e che al locatario che non rispetta le regole potrà essere data la disdetta previa diffida. Contro la modifica di legge è stato chiesto il referendum. Il comitato referendario ritiene che il progetto ponga limitazioni eccessive alla sublocazione e che il vero obiettivo sia di facilitare le disdette per poi aumentare ulteriormente le pigioni. Di che cosa si tratta in dettaglio? Con questo progetto il Parlamento non vuole modificare il principio della sublocazione, bensì impedire gli abusi. Una sublocazione è abusiva se causa al locatore un pregiudizio essenziale. Ad esempio se una stanza è subloccata a un musicista che vi si esercita a lungo facendo parecchio rumore oppure se nell'abitazione vivono più persone di quante previste. Si è in presenza di un abuso anche quando stanze o locali sono subloccati a un prezzo eccessivo. Succede ad esempio quando le abitazioni o le stanze sono offerte su piattaforme online. Le nuove regole prevedono che per ogni sublocazione il locatario deve presentare una richiesta scritta al locatore e ottenere da quest'ultimo il consenso scritto. Ai locatari è altresì fatto obbligo di comunicare ogni cambiamento, ad esempio nel caso di un cambio di sublocatario o di un aumento della pigione chiesta per la sublocazione. Attualmente il locatore può negare il proprio consenso. Se il locatario non gli comunica le condizioni della sublocazione, se la pigione chiesta è eccessiva, o se la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale. In futuro sarà possibile rifiutare una sublocazione anche quando la durata prevista è superiore a due anni. La modifica di legge sancisce inoltre espressamente la possibilità di dare la disdetta qualora il locatario non rispetti le regole. La disdetta dovrà essere preceduta da una diffida. Se nonostante la diffida il locatario continua a violare le regole, la disdetta potrà essergli data con un preavviso di 30 giorni. Le nuove regole si applicheranno anche alla sublocazione di locali commerciali. Per il comitato referendario il progetto limita drasticamente la sublocazione. Esso riguarderà centinaia di migliaia di persone. Dallo studente che subloca una stanza, all'anziano che vuole condividere la propria abitazione perché ormai troppo grande. Ad avviso del comitato, la limitazione prevista è una vera prepotenza. Già oggi è possibile sublocare solo con il consenso del locatore. In futuro, inoltre, si rischia di essere buttati fuori di casa per una semplice inadempienza. Il comitato ritiene che l'obiettivo della potente lobby immobiliare sia quello di facilitare le disdette per poi aumentare ulteriormente le pigioni. Per il Parlamento e il Consiglio federale è chiaro che la sublocazione è una prassi vantaggiosa sia per i locatari che per i locatori. Tuttavia, la difficile situazione sul mercato dell'alloggio favorisce gli abusi. Soprattutto sulle piattaforme online, per stanze e appartamenti sono chiesti prezzi spropositati. Occorre dunque impedirlo. Le modifiche di legge consentono di fare chiarezza. Le richieste di sublocazione devono essere presentate sempre per iscritto e per i casi di ripetuta violazione delle regole è chiaramente stabilito quando è possibile dare la disdetta. Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del codice delle obbligazioni concernente la sublocazione.